La musica classica è quella contemporanea, insieme il piacere della vista e quello del suono, suggestioni che si intrecciano come dentro un film, al cinema o in televisione. Compositore e pianista, a 70 anni appena compiuti, Michael Neiman è capace ancora di emozionare ed emozionarsi. Nella cattedrale di Molfetta, nell'ambito della rassegna Luci e suoni allevante della Fondazione Valente, va in scena uno degli eventi più attesi della stagione concertistica dell'orchestra sinfonica della provincia di Bari. Un repertorio sconfinato, quello di Michael Neiman, autore di alcune tra le più belle colonne sonore di film passati alla storia. Tra i più amati e innovativi compositori inglesi, Michael Neiman ha scritto opere, concerti per quartetti d'archi e orchestre. I critici parlano di lui come artista dalla fervente creatività tra le più affascinanti e influenti icone culturali della nostra epoca.